Allora, questo è chiamato l'accessoriato, tutte le marmitte a qualsiasi tipo, qualsiasi categoria presto. Qua è la scuola serale, vedete, imparano a giocare briscola, ganasta e brigio. Con dietro della scuola serale. Poca non si può, perché ci hanno detto che è illegale, infatti qua è tutto illegale, però basta mettere un castello e le regole possono essere subvertite. Un castello scritto anche di proprio pugno, quindi non abbiamo ben capito. Comunque, proseguiamo, qui arriva la boutique del comode. Con poltrona, con poltrona. E questo potrebbe essere indicativo dei tempi di attesa. Questi sono massaggi, io non so, entrano solo uomini e intorno sono solo donne, non so. Questo invece è il nostro amico detto il preciso l'ordinato. Vedete, cioè, catalogato petto petto, ha un inventario di 3500 fascicoli, a singole viti. E poi abbiamo il petto forte della serata. Dobbiamo tutti chi vuole entrare. Ovviamente, perché il campus road prevede una gita. Compriamo il regalo a Susi. Vai. E... Bella Paolo, basta. Paolo, ci fai il sentito di queste cose? Ah, ragazzi. Paolo, lo vuoi? Un secondo, un secondo, allora... Beh, questo è un certo, è vero? No. Ma tutti, dove è? E' quello che li prende a fare tu vuoi. Non sembra uno sexy shop, sono un negozio di cazzate. Di cazzate. E' un negozio di cazzate. Letteralmente. No, io vorrei che questo... Con pelo. E poi... E poi... Ma voi che ci facevate? No, se ne avevo il cazzo da fare. Mi avevo il cazzo da fare, elettronome. E' quello che è stato facendo musica. Mi piace. Quello. Questo no. Questo no. 8 inchi, se lo faccio. E' anche parto se sono solo 8 inchi. Poi, io vorrei... io vorrei no non ci credo si questo si mette un cappuccio oh questi che sono rosa no dai ragazzi non lo so oh ragazzi perché c'è una banana stiamo facendo un tour per l'officina del luogo questa è un'officina no? questa è un'officina che bella margheritina bella margheritina Paolo ti sei ingannato il disco ho capito che me lo regali oh qua quando signori vibra perché tutto deve essere piacevole anche cercare la porta di casa quando sei abriaco che torni a casa oh dimmi signori vibra vieni qua vieni qua Susy dimmi oh questo non ti vede a nessuno vediamo un po' eh dimmi bello no io ti ho la mano piccola vabbè Susy misuriamo ma questo mi schiazza dai su proseguiamo i nostri amici su ragazzi è stato bello la ghezza dai non prende la cattata dai non mi cazzate allora ragazzi continuiamo continuiamo operavamo rimasto allora vediamo un classico operatore al lavoro e insomma c'è anche il cane che aiuta potete vedere questo è la nuova piscina loft ci vivi ci mangi ci dormi ci dai bello c'è di tutto qua dentro tutto l'olio che volete c'è anche se volete fregare e poi c'è il famosissimo family market il family market il family market perché se vai a Taiwan cosa mangi mangi solo al family market quindi vogliamo andare a vedere cosa mangi l'incidente andiamo a vedere cosa mangi l'incidente Susy contro tutti Susy compra tutto io sono molto tentata di provare quelle uova buonissime che bollono dalle 2 alle 4 settimane nel tempo l'onore non è invitante però non lo so cosa vogliamo comprare sono carte per andare in sedere no le uova non ci sono vanno finite vanno a rubare e a fare uova la maggior acquirente è Silvia di capolo guarda si è fermati qua no non ci arreniamo ragazzi non vuoi qualche bibito non è vediamo Alessandro che vuole sperimentare una salmonellosi acuta questo non è gran caramello questo è uovo uovo in realtà non è un uovo perché cos'è che si trova sempre in Cina che sembra gran caramello è proprio di pollo raffreddo sotto si trovi anche la sorpresa una fava e una melangiana sono le nostre uova queste sono le uova che dicevamo le nostre uova queste a occhio a croce sono qui anche da 5 settimane sembrano molti invitanti però io ho mangiato onestamente parecchio stasera non me la faccio di provarle le ritarderemo un altro giorno quando tornerai in questo paese panciamico ma è questi? questi sono dei piccoli cacciotti ginesi più piccoli dai normali dall'aspetto sembrano dei giustel molto appetitosi che gli assaggi sanno di caramella a limone e che qua la forma la forma di queste cose è lo solito è il sapore che è un po' annullo la forma è sempre quella è il sapore che poi cambia è il sapore finesse è bello la cultura finesse io mi sono innamorata di questo posto il primo agosto tornerà a casa e il due agio è lì e sto per tornare qua di sola andata ovviamente rigorosamente perché poi un'esperienza bellissima sono questi tifoni che vanno vengono non si sa se arrivano ti dicono gli appuntamenti è una figata assurda che esci con l'ombrello e c'è un'umidità del 500% quindi ti sudi quando sei già in buon doccia esatto esatto quindi è già una comodità perché ti alzi sei già bello bagnaticcio quindi il sapone fa già la schiuma la sole non c'è bisogno ti fai la doccia in poltrona esatto vado dal comodo che è il nostro amico quello con i divanetti che che cosa mi sta ne eri fuori onda ma no ma no mi avrei appestato le meravigliose crocs di questo ragazzo belle 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 come veniva il scappolo lui ha il 32 proprio di 44 in crescita si ma questo è un colore che va con tutto esattamente quella cosa che ha appestato adesso Susi è il cioccolato cinese esatto non mi preoccupate è il cioccolato cinese riprendi guarda il film come è allora è meglio che chiudiamo sto video e salutiamo no Sibia ha c'è stato anche della cioccolata cinese con la ballerina no e perché non l'avete detto perché anche io la città di gioco che cazzo totore vabbè porto vabbè su saluta tutti quelli che ti guarderanno su youtube alla prossima puntata grazie grazie